Sono arrivato in Tunisia negli anni 2000 per accompagnare e assistere imprese italiane. Attualmente abbiamo circa 40 società italiane alle quali noi diamo un'assistenza completa a 360 gradi. L'accompagnamento significa ricercare la location, ricercare il personale e fornirgli l'assistenza amministrativa, fiscale e legale nel corso della loro attività. Abbiamo delle grandi industrie, abbiamo una società che lavora per conto dei Fiat e si occupa dei cablaggi per auto che occupa oltre 850 dipendenti e un'altra grande società, Bizert, che ha acquisito i vecchi stabilimenti dell'Ilva di Taranto italiana, quindi occupa circa 400 persone, come attività trasformazione di coils in acciaio. Il Vida è nata grazie all'amicizia con Ashraf Tulti, che ho conosciuto qui in Tunisia, con il quale abbiamo deciso di percorrere insieme questa strada. Nel 2017 abbiamo fondato questa associazione di sviluppo economico e commerciale e il nostro intento era quello poi successivamente di farla diventare una camera di commercio italo-libica. Per normative italiane una camera di commercio può essere operativa solo da decreto del Presidente della Repubblica Italiana e devono almeno trascorrere due anni. Noi però nel frattempo abbiamo iniziato, poi purtroppo abbiamo dovuto un attimino rallentare le nostre attività per i motivi che tutti sappiamo. Adesso, grazie a questo voto di due giorni fa che c'è stato del Parlamento, con il nuovo governo, abbiamo deciso di riaprire la nostra sede, gli uffici e iniziare a presentare le nostre aziende italiane. Io dico italiane, però come avete visto nella cartina è collegata con la Tunisia, quindi Italia, Tunisia, Libia, perché secondo me la Tunisia deve essere un punto di passaggio obbligato per le imprese italiane. Quindi questa è la nostra intenzione. Per il momento questa è la sede, l'ubicazione dove gli imprenditori italiani verranno ricevuti, sostenuti per poi successivamente andare in Libia. Sappiamo che il 2021 sarà un periodo di transizione in attesa delle elezioni, però intendiamo noi già incominciare a presentare le nostre aziende italiane. Sì, in continuazione, sinceramente in continuazione anche le richieste erano quelle di andare in Libia, però noi chiaramente anche l'ambasciata stessa vieta, più che consiglia vieta gli spostamenti per ovvi motivi. Adesso le cose cambieranno comunque sia, anche se adesso abbiamo questo nuovo governo, bisognerà sempre chiaramente fare attenzione. Quindi organizzeremo sì delle missioni, ma delle missioni accompagnate, dandogli la massima sicurezza, come già abbiamo fatto nel 2018 quando abbiamo inaugurato a Tripoli la nostra associazione. Quindi un gruppo di imprenditori italiani sono arrivati, sono stati accompagnati con tutta la sicurezza possibile, anche fornita dall'ambasciata e questo sarà il nostro intento. Questo è chiaramente buona parte di questo lavoro, lo lasceremo alle autorità preposte. È chiaro che non ho nessuna intenzione di sostituirmi all'ambasciata o ai rispettivi ministri esteri. Tra l'altro colgo l'occasione che ho molto apprezzato questa scelta da parte del governo di mettere cinque donne nei ministeri, cosa che non è avvenuta neanche in Italia con l'ultimo governo. Tra cui gli affari esteri è una donna che presiderà il ministero. Quindi spero su una collaborazione già da subito tra i nostri ministeri. La Libia è attaccata all'Italia, ok? Che poi abbiamo i francesi, i tedeschi, però anche i libici amano molto, come i tunisini, amano molto l'Italia. Quindi noi dovremmo essere pronti, come? Con tutto, perché l'Italia sappiamo benissimo che ha un'industria importantissima, progettisti, architetti, abbiamo di tutto. Quindi possiamo, secondo me, essere veramente i leader su questa ricostruzione. Bisogna lavorarci e questo è il nostro obiettivo. Lavorarci già da adesso. Poi penso che nell'arco di un anno le cose, un anno, un anno e mezzo al massimo, si sistemeranno. Dopodiché inizieremo. Come dicevo prima, il punto di passaggio obbligato è la Tunisia per le aziende italiane. Non porteranno gli operai e la manovalanza, chiaramente, dall'Italia. Verranno i capi cantiere, i chef, le grandi imprese. Faranno dei partenariati con le aziende tunisine, quindi non solo attingere della mano d'opera da portare in Libia, però, secondo me, è cruciale per risolvere anche molti problemi economici delle aziende che tuttora stanno in Tunisia. La ricostruzione della Libia è importantissima. Poi non dimentichiamo che ha delle risorse importantissime, la Libia ha il miglior petrolio al mondo, quindi non avrà problemi per attingere i fondi per la ricostruzione. Questo sappiamo che dà dell'appetito un po' a tutti quanti. Però, per quello che riguarda l'Italia e la Tunisia, secondo me, risolverà molti, molti, molti problemi che ora abbiamo, specialmente per la Tunisia, il problema che abbiamo della disoccupazione. Molte industrie non verranno adesso create immediatamente in Libia, perché sappiamo che c'è da ricostruire strade, ponti, acquedotti, elettricità. I problemi sono tanti. Quindi prima la parte pubblica, la parte amministrativa che va ricostruita. Allo stesso tempo, però, anche per ricostruire questo, c'è bisogno delle industrie che produrranno delle materie prime. Inizialmente si potranno fare in Tunisia, per poi successivamente, invece, aprire delle industrie vere e proprie in Libia. Per quello che riguarda la nostra associazione Ilbida, quello che io sto facendo, chiaramente da ieri diciamo che poi abbiamo riniziato, quindi non è già passato molto tempo, è quello di far aderire più aziende e imprese italiane possibili a Ilbida, in modo che noi già possiamo presentarci allo Stato libico, al governo libico, dicendo ecco, queste sono le aziende che potrebbero aiutarvi alla ricostruzione. Questo sarà il nostro obiettivo principale.